inter tre cremonese uno pagelle dei tifosi come ogni partita nel post gara siamo in diretta con il club di passione inter con la chat qui insieme a noi per dare i voti ai giocatori dell'inter scesi in campo stasera in questa partita contro la cremonese vittoria per tre a uno i gol come scorre in sovraimpressione di correa barella lautaro martinez e nel finale poi invece di occhere che non ci permette di chiudere con il clean sheet andiamo con il nostro tier maker come sempre cinque fasce dove inserire i nostri calciatori mvp per il migliore o i migliori in campo top per quelli che sono andati particolarmente bene ok per i sufficienti poi rimandati e quindi i flop quelli che sono andati peggio stasera credo che la partita un tre a uno così non debba prevedere dei flop ma vediamo partiamo dalla porta samir andanovic vale allora ne hai parlato tu di di samir andanovic parto da te chiedendoti un giudizio sulla sua partita soprattutto sul gol preso nel finale vale la partita comunque una partita attenta tranquilla nello specifico sul gol sì come diceva simo giustamente mi sentite sì con un po di ritardo con un po di ritardo ok no troppo troppo ritardo togliamo un attimo vale se può provare ad uscire e rientrare in chat vedo tutti attorno all'ok qualche sette sette mi sembra troppo io l'ho visto molto attento il reattivo e la macchia diciamo è quel gol subito ragazzi non so che cosa ne pensate voi per me l'ok ci sta sì anche secondo me ok sì ormai c'è questo nuovo sport di prenderlo di mira anche su su gol dove levano le ragnatele un po di oggettività sono sono d'accordo sono d'accordo anzi mi è sembrato anche più reattivo del solito anche nelle uscite stasera qualcosina in più ci ha messo minan screener simo partita normale diciamo nulla di speciale ha fatto quel salvataggio quasi sulla linea ad un certo punto sui salvataggio è stato abbastanza presente poi è stato anche lui un filino in sofferenza in quella fase di inizio ripresa dove la cremonese portava in aria tanti uomini lì c'era qualcosa da registrare lo metterei sull'ok personalmente con sei un sei e mezzo circa qualcuno dice rimandato no dai ci siamo per me ok leggermente in linea con andanovi ci dai io sono d'accordo forse aldo un gradino sopra screener scusami si no io sono in linea con quello che ci siamo detto in inizio campionato io devrai quest'anno lo vedo molto molto concentrato e la cosa che tra l'altro mi fa pensare è che comunque quando noi analizziamo la difesa è difficile che ne bocciamo qualcuno ma quando parliamo della fase difensiva siamo qua a dire che è il punto debole dell'inter e quindi c'è c'è e non riesco a trovare la soluzione di tutto questo perché è difficile che rimandiamo diciamo che un flop un difensore ma se poi parliamo in generale della fase difensiva siamo qua che tremiamo e quindi chiedo anche a voi come come è possibile questa cosa equilibrio è l'equilibrio che a volte manca per me per me le fra i top le fra i top sì 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 con d'accordo intelligenza tattica sempre superiore questa sera probabilmente anche di marco da top pasquale perché l'ho visto in fase difensiva sempre qualcosina da rivedere a livello di equilibri però spacca la partita quando parte quando attacca si aggiunge ai due centravanti sì 7 pieno ma fammi dire che in fase difensiva comunque ha fatto due o tre diagonali interessanti a inchiusura sul lato destro una anche a destra addirittura al posto di screener sì 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 ma 7 pieno top ci sta anche la chat vedo vedo abbastanza d'accordo c'è qualche 8 molti 7 6 e mezzo 7 il top ci sta denzel dunfris buona partita anche la sua dove lo vogliamo collocare ragazzi chiedo anche la chat per me ok per me anche secondo me c'è nel senso sempre quel dunfris da cui ti aspetti quel filino di più però io continuo a vederlo bene tutte quattro le partite perlomeno quando ho giocato voi l'ho sempre visto uno dei migliori comunque anche a livello mentale a me è piaciuto sì va bene che ok è per carità però forse lo premerei in questo modo un ok alto per me sì ok più o top meno c'è quella roba lì guarda io sono d'accordo con per me sarebbe da ok però vedo la chat che spinge forte per il top il mio ok lo giustifico con il fatto che quando è entrato bellanova mi sono emozionato che puntasse l'uomo vero quindi questa cosa qui me l'aspetto un po di più anche da lui però vedo che la chat spinge molto per il top lo metto sotto di marco e defray personalmente nicolò barella ragazzi qui mi impunto io mi dispiace stasera mvp assoluto nicolò barella da in alto sì sì va bene mvp assoluto dai con la perla del gol che comunque clamoroso gol assoluto presenza in tutto l'arco della partita sostanzialmente attivo nelle due fasi del via l'azione che poi conclude con il gol assist stasera partita di leadership grande grande quantità e tanta qualità per nicolò e meno sbracciate e meno sbracciate meno sbracciate vero mvp e mi sembra che siamo tutti d'accordo vale dici se ci senti anche ne ha dato il 5 con un fris il pallone no ma il 5 si vale se ci senti dimmi la tua su brosovic a me oggi è apparso sicuramente un altro broso rispetto alla lazio no troppo troppo ritardo troppo ritardo vale ti vediamo bloccato ci risentiamo tra poco nel club scusa vale ma ti vedo almeno 20 secondi di ritardo dicevamo marcello brosovic ragazzi per me oggi ok pienissimo sì sì ancora non è trascendentale però condizione crescita anche in chat 6 6 e mezzo 6 6,7 6 e mezzo c'è la no glue aldo ma anch'io lo metterei c'è scudo anch'io io lo metterei tra tra l'ok e il top nel senso che comunque è quell'anello di congiunzione tra il centrocampo l'attacco che offre soluzioni alternative alle fasce e oggi io l'ho visto comunque brillante cioè continuo ecco a me è piaciuto per me anche da top sono d'accordo anche l'assist per barella prezioso esatto cioè poi i tempi giusti si è dosato e ecco ed è stato quel dosaggio non che ti sparisco 20 minuti per poi tornare e tornare sugli scudi no sempre presente nel momento giusto senza strafare che secondo me è quella continuità che poteva mancare in alcune fasi dello scorso anno che in ottica derby mi tranquillizza molto una delle cose che appunto mi dava più ottimismo di simone è il cialanoglu visto oggi ecco ho visto tanti d'accordo con il top quindi lo mettiamo lì darmian ragazzi per me oggi sarebbe quasi da senza voto non lo so l'ho visto veramente ma non per colpa sua ma perché proprio stato poco coinvolto da quella parte no sì anche perché con di marco vai a coinvolgere molto lui poi ribalti subito sulla destra e poi come dicevo prima giocare sul piede non tuo in quel modulo qua è difficile quindi ok perché prima andato no però ok ma fa l'equilibrio a quel punto lì non è meglio metterlo come braccetto piuttosto che come quinto se tanto non è il suo piede e difende meglio di di marco lascia di marco secondo me limiti un po di ma perché di ma bisogno di campo in queste in queste partite piuttosto che partire alto perché di marco se parte alto fa un po fatica perché non ti salta l'uomo però invece partendo da dietro ti può anche saltare cioè ti può anche venire dentro il campo e secondo me anche partendo da dietro è anche utile per dare profondità con il lancio sopra sto vedendo diversi cinque e mezzo in chat per ciala per per darmian rimandato dai io gli darei sei perché ok sì sì no no sì 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 ok darmian parte sempre da 0.5 per la maglia esatto esattamente simo dimmi la tua su correa bene perché comunque l'ho visto in partita fatto gol tra le altre cose io ancora non ho visto il correa della lazio io ricordo che quando vedevo la lazio mi dicevo sempre quanto mi piacerebbe vedere questo giocatore nella mia inter cioè mi piaceva proprio e non l'ho ancora visto nemmeno nelle sue migliori partite quindi bene gli direi non non direi top però un ok pieno il primo degli ok forse comunque un ok pieno ma correa non può essere ancora questo deve fare di più e se davvero come ha detto in zaghi è uscito con un affaticamento ai due adduttori cioè di cosa è fatto sto ragazzo di carta perché allora è un problema ha giocato tre partite di anzi tre spezzoni di fila e cioè non possiamo andare avanti così tutto l'anno è un problema serio ma dite che non ci sarà col derby perché spero di no c'è che che recuperi però da quello che dice il mister da quello che ho letto nelle dichiarazioni non sembra per il momento grave però al momento è uscito con questo doppia doppio affaticamento sostanzialmente più di ok fatico a darglielo sinceramente però oggi l'ho visto già che andare più dritto verso la porta anche l'occasione che è stato morato da bianchetti e cercare più il movimento andare in profondità piuttosto che fare il solito lavoro che parte da lontano dove un po' o volte va nascente c'è anche sul gol cioè già fatto più dello scorso anno su questa cosa qua comunque ho fatto due gol stupidi che come diceva mancini cosa che l'anno scorso che riprovevamo vero 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 questo è vero però comunque le prestazioni si da ok secondo me sì 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 andiamo rapidi con con gli ultimi rimanenti gecko ragazzi per me top top l'accordo no no non ci sorprendi top dominante stasera mi è piaciuto molto sacrificio poi mi sono gasato un sacco con la giocata che ha fatto nel finale con resistenza i palleggi in progressione sì sì alla mark landers esatto mi mancava la manica accorciata e mi mi sono gasato molto lì con gecko in versione in versione faticatore puro oggi è quindi è un giocatore intelligente perché ha capito che non serviva lui in area perché finalmente correa la riempiva e poi nel momento in cui è entrato con l'autaro sapeva che ci sarebbe stato l'autaro in area e quindi ha fatto quello che serviva a fare cioè ha proprio un'intelligenza calcistica rara gecko sono d'accordo penso visto che l'hai citato l'autaro aldo che gli vado a far coppia anche nella categoria top perché l'autaro è entrato con grande cattiveria gol importante sbaglia i gol semplici lui quello sottoporta con l'esterno del destro messo sopra la traversa però quando l'autaro sorride invece che rimanere con la bocca aperta vuol dire che è sul pezzo ed è carico in fiducia per cui bene bene sì top top l'autaro penso che siamo tutti d'accordo d'ambrosio come è entrato ragazzi ok senza voto senza voto ok aslani ho letto in chat qualcuno sottolineare un ingresso di buona personalità francamente non ho fatto in tempo a vedere granché della sua prestazione per poi andare sull'ok senza voto sì sì come ad ambrosio no c'è comunque che si propone l'avevo andato anche tipo d'oltre volte sull'esterno appoggiare due fris cioè si vede che ha voglia così come dicevamo a voi anche bellanova io mi sono emozionato dicevo un po ironicamente ma non troppo del fatto che puntasse l'uomo andasse al cross in maniera senza dover fare per forza la mossa alla candreva stop finta contro finta ricontro finta ma si può andare sul fondo e crossare senza pensarci troppo è un ok ma con tanta voglia di rivederlo da parte mia voglio dire sono d'accordissimo ma poi quello scatto che ha fatto dove aumenti prende la palla che quanti metri ha preso il difensore uno col cambio di passo così ci serve in certi frangenti in diretto ho fatto una citazione che il nostro aldo ricordava wallace te lo ricordo che meraviglia l'unico l'unico flash che ho di wallace in maglia inter è uno scatto a 200 all'ora sulla fascia bella nova quindi lo mettiamo ok ma pieno e robin gossens lo stesso l'ho visto recuperare un buon pallone in difesa e poco più non mi sembra ci sia stato molto altro che dite sì è altro che ci interessa su gossens in questo momento esatto prestazione di oggi ne parliamo a parte ne parliamo a parte di questo chiudiamo con in zaghi ragazzi oggi partita impostata bene secondo me i cambi ha saputo anche ha potuto anche gestire un po le risorse dei calciatori vedendo una squadra ampiamente positiva non so per me è un buon sei e mezzo pieno un ok bello pieno che dite sì 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 condivido mi sarebbe piaciuto vedere un'ana magari però va bene non è che si può dare anche io cinque per questo però va bene va bene sufficienza piena dai per mister simone zaghi che porta a casa questa vittoria dell'inter terza vittoria in quattro giornate di campionato fateci sapere se siete d'accordo con i nostri voti ovviamente con i nostri giudizi e quelli della community di passione inter lo scrivete nei commenti e vi ricordo che se anche voi volete partecipare qui insieme a noi per dare i vostri voti potete o entrare nel club di passione inter per intervenire qui live con noi su www.passione inter.club oppure seguiteci ovviamente dopo ogni partita per commentare dalla chat ed approfondire insieme a noi tutti i temi di casa intera